Alessandro Camucchiappini si inizia a fare sul serio in Champions League, arriva la Dinamo Mosca, un avversario particolarmente tosto, però questa ormeccanica Rebecki comunque non parte battuta. Assolutamente no, perché vogliamo giocare questa partita dando il massimo, quindi quelle che sono le nostre possibilità. È una squadra sicuramente molto forte, molto fisica, però abbiamo anche delle possibilità di aggredirle soprattutto nei loro punti deboli, per cui faremo una partita proprio dedicata a metterle in difficoltà il più possibile, sapendo che hanno dei punti di forza come per esempio l'attacco, come per esempio il muro, ma sfruttando appunto quelli che possono essere i loro limiti in ricezione o in difesa. Quindi l'obiettivo è partire da una battuta aggressiva? Assolutamente, sia battuta che attacco, aggressività e anche intelligenza tattica in attacco, perché saranno due aspetti molto importanti per poter eludere un po' quelle che sono le loro qualità fisica a muro. Per quanto vi riguarda, come state? Arrivate da due sconfitte, uno in Coppa Italia e uno in campionato, però fino a questo punto avete sempre dimostrato che nelle partite da dentro o fuori ci siete sempre fino all'ultimo pallone. Sì, quello che mi interessa di più in questo momento è che la squadra sta cercando di reagire, nonostante le difficoltà, nonostante la mancanza dei risultati, però è una squadra viva che prova comunque in allenamento a crescere, prova in partita a spingere, anche se a volte non riusciamo a farlo fino alla fine. Però anche l'ultima gara avevamo di fronte un avversario che ci ha messo abbastanza in difficoltà, ma nonostante questo per due set abbiamo tenuto testa e nel quarto set, nonostante il 25-18, comunque siamo stati in partita. Per cui dobbiamo ripartire da queste cose, cercare di spingere ancora di più, di crescere ancora di più sia a livello mentale che a livello tecnico, quello non dobbiamo mai fermarci assolutamente. Però credo che possiamo giocarci le nostre possibilità. Dovete fare conti con un'assenza importante che è quella della Vargas e poi come sta la Kozu che è appena arrivata, se è in grado di giocare, se può giocare? Sicuramente ieri ha fatto primo allenamento, sicuramente l'abbiamo vista in discreta forma, nonostante il fatto che è ancora un po' sballato il suo fuso orario. Però è una giocatrice che potrà darci un bel contributo sia in posto 2 che in posto 4 nel momento di necessità, per cui se sarà disponibile domani, vediamo se c'è necessità, potrà aiutare la squadra sicuramente.